Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Volevo fare un video un po' diverso dal solito e parlare di un servizio che c'è stato, credo, su Piazza Pulita, sulla 7, se non sbaglio, sui bodybuilders. È un servizio in cui in trasmissione si è presentata pure Annalisa Ghirotti, che saluto, dei ragazzi del Natural Peaking, e sostanzialmente si parlava del bodybuilding. Si dava un'immagine specifica del bodybuilding, come immaginerete, abbastanza malato, un bodybuilding malato in cui c'è un'ossessione nel coltare il cibo, ci si priva di tante cose, bla bla. Vi invito a vedere il servizio, perché non voglio parlare del servizio nello specifico, o meglio, dopo il scontato che abbiate visto il servizio, ok? Senza stare a spiegare esattamente quello che c'è stato. Però l'ho visto stamattina e ne ho parlato un po' con Giorgia e abbiamo riflettuto su alcuni aspetti. C'è stato tanto scalpore, nel senso che tanti ragazzi sono indignati, fanno vedere il peggio del nostro sport, fanno vedere cose negative, però dal mio punto di vista sono emerse tante cose, tanti spunti di riflessione, che ognuno di noi dovrebbe prendere, anche in finzione di quelli che sono stati gli interventi delle persone in trasmissione, scusate, non ricordo assolutamente chi siano, comunque c'era una psicologa, credo, uno psichiatra, non mi è piaciuto l'intervento del medico successivamente. Quindi questo è. Volevo parlarne e discutere con voi. Allora, analizziamo per punti e iniziamo a vedere quelli che sono i contro, gli aspetti che sicuramente non sono stati corretti da trasmissione, però la ricerca di terrorismo e sensazionalismo mediatico portano inevitabilmente a questo. Il primo fatto è che hanno analizzato e portato e rappresentato soltanto due estremi, questa è una cosa che è stata detta dal ragazzo in trasmissione, da uno dei ragazzi in trasmissione, ossia da una parte hanno analizzato, hanno intervistato delle persone che probabilmente hanno estratto soltanto quelli che dicevano le cose peggiori, quindi quelli che facciano scarichi di acqua e sale pesante, che mangiavano merluzzo prima della competizione, hanno fatto vedere la vita di una ragazza che contava tutto con i macros, con il barcode, eccetera, eccetera, e dall'altra parte hanno portato in trasmissione Annelisa Ghirotti, che è un agonista di alto livello a livello internazionale di natural bodybuilding, quindi logicamente abbiamo sempre un comportamento estremo, come è giusto che sia per un atleta di alto livello. Quindi comunque c'erano questi due estremi e non hanno fatto vedere tutto quello che è il bodybuilding che c'è nel mezzo, quindi paradossalmente, anche se non è una cosa che mi piace, non hanno parlato delle fit fit your macros, o comunque di ragazzi che hanno un approccio un po' più easy, quindi loro facevano sempre e chiedevano qual è l'ultima volta che hai mangiato un tiramisù? Tra parentesi, se me lo chiedi a me, a me un tiramisù ha fatto sempre gagare, credo che l'ultima volta l'ho mangiato a Roma da pompi quando avevo 18 anni, forse anche di meno, per cui non vedo il punto di questa domanda, però al di là di questo, l'avessero chiesto a uno di questi grandi influencer, bodybuilder, i fit fit your macros, che di nuovo io non amo, però avrebbero ricevuto già una risposta diversa, quindi logicamente hanno fatto vedere due estremi e non hanno fatto vedere tutto quello che c'è nel mezzo. Il secondo punto è che c'è questa visione, secondo me assolutamente sbagliata, per cui il bodybuilder o la bodybuilder è ossessionata dal corpo, cioè è una cosa che viene fatta per narcisismo, perché ci si vuole vedere in una certa maniera, che sicuramente è vero in alcuni casi, però non viene accettato che il bodybuilding possa essere uno sport e che il bodybuilder possa essere un atleta che viva di un gesto sportivo, che è il lavoro in sala, il gesto sportivo, una routine sul palco, sempre perché siamo un po' nel mezzo, perché abbiamo questo problema che per noi l'agonismo, quindi il gesto agonista, la competizione agonistica è diversa dalla competizione in allenamento, dal gesto in allenamento, cioè ci alleniamo in un modo ma gareggiamo in un altro modo, gareggiamo su un palco a far vedere i risultati estetici, ma in allenamento facciamo dei gesti tecnici che sul palco non sono richiesti, come avviene nello strongman, il PL, nel weightlifting, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista, e questo è il terzo punto, si esclude tutta la fetta che pratica il bodybuilding come sport, a cui piace lo sport e il bodybuilding, ma è di tante persone che neanche gareggiano, che si allenano. Arnold diceva una cosa molto interessante in Pampy Rhinon, è come se tu creassi una statua, ecco, io mi ci ritrovo molto in questo, cioè non ho assolutamente una visione narcisistica del voler vedermi in un certo modo, beh, non l'avete capito, però è molto più un discorso dell'apprezzare il proprio corpo come se fosse una struttura a cui stai lavorando. Quindi se vedi che c'è una carenza su alcuni distretti, lavori di più e ammiri l'armonia che crei, ma quasi come se fosse una scultura, un qualcosa di esterno a te. Poi ti guardi allo specchio non per narcisismo, ma quanto piuttosto perché vuoi vedere quelle carenze, tanto è vero che tante persone, io compreso, tendono a coprirsi parecchio anche in palestra, non stanno sempre nudi, non stanno sempre con la maglietta, senza maglietta voglio dire, non gli piace farsi vedere tantissimo al mare, cioè è come se ci fosse un distacco che si crea tra quello che hai addosso e quello che stai costruendo, ok? Quindi viene escluso nel servizio tutta quella fetta di popolazione che ama il bodybuilding come sport. Non si parla veramente dello sport, del gesto atletico, di quello che si fa in palestra, si parla essenzialmente solo di narcisismo e alimentazione. E questo è un punto che mi dà fastidio perché il punto nevragico è proprio questo, che non viene trattato il bodybuilder come se fosse un atleta, perché si parla dello sportivo, cioè se uno sportivo, un Michael Phelps, un corridore di 100 metri, un bold, eccetera, fa vedere una certa rigorosità a livello alimentare, a livello di routine, a livello di vita, viene vista come un qualcosa di eroico per portare al risultato, mentre per il bodybuilder viene visto come ti stai rovinando la vita ma ne vale la pena. E là comunque avevano Annalisa Ghirotti che è una campionessa a livello internazionale, quindi comunque nel natural bodybuilding sta nei più alti livelli di questo sport e questa disciplina, quindi non è mai passato per la mente a nessuno del dire vabbè, ma nel suo caso è logico che sia così, come sarebbe logico che un Michael Phelps facesse determinati tipi di restrizioni che non sono magari da un punto di vista calorico, però sono da un punto di vista di allenamento, del fatto che lui stesso diceva che saltava a Natale, compleanno, casi e mazzi, per allenarsi perché lui si allenava con un certo rigore, e il fatto che va alle Olimpiadi, che sono uno sport prestigioso e culturalmente accettato, le giustifica, mentre nel bodybuilding è qualcosa che non si giustifica. E questa è la cosa un po' più triste, è la visione del cazzo italiana per cui non viene accettato semplicemente il bodybuilding come sport, cosa diversa in tantissimi altri paesi. Avete visto Big Remy, quando è tornato dall'Olimpia, dopo aver vinto l'Olimpia, lo aspettavano all'aeroporto con i furgoni, c'erano le sue immagini di gigantografia dappertutto, pubblico che non citava, cioè come eroe del paese che è tornato e ha vinto il titolo più importante in uno sport rappresentando l'Egitto. E la cosa mi ha fatto ridere un commento, in Italia al massimo se un italiano vince l'Olimpia tornano che l'aspettano i Nas, e purtroppo è vero, tornano che vede la schiera, invece il giornalista ci sa, la schiera di Nas, ah, benissimo, ora vediamo un po' di divertirci. Quindi, bene o male purtroppo questa è una rappresentazione della tristezza del nostro paese, nostro, vostro, quello che vi pare. Ora iniziamo però con delle riflessioni che non sono state fatte, perché fino a qua saremo tutti d'accordo, tutti incitati, tutti hanno mal rappresentato il nostro sport, il nostro stile di vita, il nostro caro bodybuilding, però, 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 ragazzi, il però è che questi hanno rappresentato delle realtà effettive, perché non erano attori quelli che stavano là a parlare, non erano attori quelli che erano intervistati, ma erano ragazzi che vivono così. E sono delle realtà che se le guardate non, in qualche modo, non possono essere giustificate. Cioè, il discorso del tracciarsi col barcode, tutte le cose, per andare a sostanzialmente fare una garetta, così, o il discorso del rinunciare a acqua e sale, fare scariche pesanti di acqua e sale, mangiare solo merluzzo, insomma, sono cose che sono in realtà molto spinte, in generale, e nel loro contesto, cioè in un contesto che non è di agonismo di alto livello, non possono essere accettate. Cosa voglio dire? Non voglio dire che siano sbagliate di per sé, però, uno dei psichiatri ha fatto un discorso interessante, è va bene la libertà di scelta, cioè, non ne facciamo un discorso morale. Se per te vivere in questo modo è un qualcosa di positivo, è un qualcosa che ti fa star bene, è un qualcosa liberissimo di farlo, e non ci deve essere giudizio in questo, io non sto applicando giudizio da questo punto di vista, quindi, se per te che ascolti, se per voi che ascoltate è un qualcosa che vi fa star bene, è una vostra scelta fatta in maniera proattiva, allora va benissimo ed è sacrosanto che sia così, perché non ci deve essere in questo senso condanna da questo punto di vista, però, la cosa che lui ha detto ed è una cosa che ha fatto riflettere, io mi chiedo e dico che molti di questi ragazzi, perché parlavo in generale dei ragazzi a livello amatoriale magari che si approcciano a questo mondo, non hanno veramente libertà di scelta. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che faccio l'esempio, noi quando abbiamo fatto il video sul smetto di seguire la dieta, abbiamo parlato dell'intuitivity, eccetera, il nostro scopo era proprio quello di cercare di svegliare alcune persone che non avevano libertà di scelta. Quando ho parlato del smettere di tracciare macros e utilizzare una dieta senza avere l'applicazione, quindi in quel caso sempre pesare il cibo, però senza utilizzare l'applicazione, e in entrambi i casi ho sempre parlato di dieta varia ed equilibrata, ok ragazzi, quindi non mai mangiare tutto alla cazzo che ci pare, mangiare quello che ci va, eccetera, però sempre una dieta varia, sana ed equilibrata, ok, lo ribadisco, però il nostro tentativo era quello di far vedere a tutte le persone che non avevano fino adesso libertà di scelta, che c'era la libertà di scelta. Cosa vuol dire? Che se io sono un ragazzo, una ragazza che accende Instagram, si iscrive e vede tutti questi influencer, tutti questi atleti, vede solo quello come realtà. Non è accettato diversamente, cioè o tracci macros facendo i fit fit your macros e quello è l'unico concetto di flessibilità, cioè stare appiccicato a una cazzo di applicazione tutti i giorni e campare con un'applicazione per il resto della tua vita pesando ogni cosa o andando in cucina al ristorante a rompere il cazzo al cuoco chiedendogli come ha fatto determinate ricette perché questo è quello che viene fatto oppure sei preciso al grammo eccetera non hai libertà di scelta se vuoi essere un bodybuilder questo è il modo in cui vivi. Mi concentro sull'aspetto alimentare ragazzi perché è quello che è emerso di più quindi la cosa che veniva detta è che in realtà molte persone non hanno libertà di scelta e ragazzi in tantissimi mi hanno scritto sul Q&A mi avete scritto sui Q&A e l'ho pubblicato molto spesso o in direct o ai commenti di YouTube molti hanno smesso di utilizzare l'app e si sentono molto molto meglio adesso tanti stanno smettendo proprio di pesare il cibo e stanno iniziando magari a mangiare in maniera più intuitiva e sempre rispettando dei principi di dieta sana varia e equilibrata che io porto avanti su questo canale e questo ci tengo di nuovo a ribadirlo perché se no è un attimo a far intendere e si sentono molto molto meglio deve essere così? no io non sto dicendo che dovete far così sto dicendo che avete anche questa scelta quindi sto dicendo che la cosa importante che questa trasmissione deve portare a galla e cui deve far riflettere è che abbiamo un'altra possibilità di scelta ossia dire che sai che c'è io non sono un agonista non voglio andare all'Olimpia sono un agonista che lo fa per diletto e ho anche questa opzione ossia il seguire dei principi mangiare bene stare in salute però non pesare il cibo al grammo non tracciare tutto con un'applicazione ma semplicemente mangiare il giusto cercare di avvicinarmi al mio senso di sazietà stare più equilibrato perché è così che voglio vivere questo sport e questo non comporta il fatto che non sono un bodybuilder non faccio no pain no gain eccetera perché io quello che vi dico sempre è lo fate in palestra cioè il vero bodybuilder si vede in palestra in modo in cui si allena in modo in cui porta avanti con dedizione il proprio protocollo di allenamento in modo in cui dà l'anima in ogni sessione in modo in cui progredisce e là si fa il bodybuilder non sicuramente il fatto che a tavola pesa in maniera maniacale oppure è un po' più libero di nuovo purché rispetti dei principi di dieta funzionale alla salute e funzionale al proprio allenamento ok però c'è un'altra possibilità di scelta ed è quello che semplicemente veniva fatta nella golden era non veniva pesato tutto al grammo ma si era molto più liberi da questo punto di vista la dieta era molto più varia tanta frutta tanta verdura tanti tipi di proteine tanti tipi di cereali eccetera eccetera un altro punto su cui bisogna riflettere è il rapporto di CI e bodybuilding molti hanno scritto il bodybuilding è una salvezza per i disturbi del comportamento alimentare nì nel senso che non ne esci se passi dall'avere uno stato di anoressia di bulimia e gli psicologici per carità mi contraddicano qua sotto nei commenti se sbaglio però se passi da avere determinati disturbi del comportamento alimentare con il bodybuilding seguendo un'alimentazione che conta i macros che va a contare e pesare tutti gli alimenti eccetera trasformi i tuoi DCA ma non ne esci perché sei sempre costretto se non hai e non vedi quella possibilità di scelta ulteriore se non la contempli se non l'accetti non che tu non la debba fare però se non l'accetti e in questi casi non veni accettata esiste solo quello e quella è un'altra forma di disturbo del comportamento alimentare cioè ai miei occhi il fatto di non riuscire a contemplare altro neanche in una possibilità di ritiro futuro dalle competizioni eccetera e pensare che l'unico modo per vivere l'alimentazione sia pesare tutto quanto è un tipo di disturbo del comportamento alimentare perché il comportamento alimentare non dovrebbe essere individuato in una bilancia o nei macros assolutamente no poi possiamo metterci in mezzo il discorso che sicuramente è un'alternativa più salutare rispetto a un'anoressia quindi una persona anoressica che diventa bodybuilder e fa una fase di off-season in cui prende BF perché quello è lo scopo eccetera sicuramente migliora i propri marker di salute e sicuramente va bene è un miglioramento però non si può dire che il bodybuilding cura i DCA perché questo è un messaggio che è stato fatto passare molto su Facebook dalle reazioni su questa trasmissione e invece come ha detto la psicologa è un modo per mascherare i propri DCA o dargli un'altra forma ma sempre là rimangono ragazzi e di nuovo è un passo avanti però sempre là sono e c'è sicuramente del lavoro da fare quindi in ultimo il concetto è che dal mio punto di vista dovremmo tutti riflettere sulla base di questa trasmissione e chiederci se noi contempliamo veramente altri scenari e se abbiamo veramente una libertà di scelta tutti noi dovremmo chiederci queste sono domande che sicuramente io mi sono fatto e mi rendo conto che prima non contemplavo altre opzioni perché per me il bodybuilding quando mi sono approcciato a questo mondo mi è stato detto che era questo punto che non esistema nient'altro che non c'era modo di vivere il bodybuilding senza pesare tutto al grammo e calcolare tutti i macros all'inizio mi è stato detto che l'unica flessibilità che c'era era l'IFIT Fit Your Macros io ho seguito l'IFIT Fit Your Macros e stavo ogni diamine di mattina con l'applicazione a pensare a cosa mangiare a inserire nell'applicazione cosa avrei mangiato e magari cambiavo idea o magari non trovavo quello che c'era a casa o al supermercato dovevo cambiare tutto quanto nel macros perché sgaravo di 5 grammi ci sono passato ma perché così mi era stato detto di fare quindi non è colpa del singolo ma del contesto della società in qualche parte degli influencer che cercano di far passare questo messaggio per fini di marketing o perché ci credono veramente anche loro quindi per autogiustificare il loro comportamento abbiamo veramente la libertà avete veramente la libertà di scelta siete consapivoli di questo perché se avete la libertà di scelta ed è una vostra scelta è sacrosanto che sia così e nessuno dico nessuno deve applicare su di voi il giudizio però dovete essere onesti con voi stessi e dovete chiedervi se così è veramente se contemplate e accettate il fatto che anche non pesando tutto quanto potete ottenere grandi risultati che la capacità di omeostasi del nostro corpo va oltre quello che è la piccola variazione giornaliera della vostra alimentazione ovvero io sto mangiando un intuitive eating mi affido essenzialmente al mio senso di sazietà e il peso è in stallo la condizione è in stallo quindi il corpo si autoregolarizza anche se probabilmente ha un delta relativamente importante tra carboidrati grassi e proteine di giorno in giorno ma questo si vedrà nel ritmo metabolico che il mio corpo applica in quanto mi fa dormire quanto mi sta facendo essere attivo quanto mi richiede di mangiare in funzione dell'allenamento bla bla quindi quando spendo in allenamento mi chiede di mangiare di più se spendo meno mi chiede di mangiare di meno eccetera eccetera quindi c'è una forte capacità di regolazione del nostro stesso corpo per mantenere la sua omeostasi ora voi accettate questa cosa accettate che non pesando al grammo tutto quanto o non vivendo in questo modo come è stato fatto vedere nel servizio potete essere considerati ottimi bodybuilder e ottimi atleti accettate il fatto che il grosso lo fate in sala e non essendo relegati di nuovo se lo accettate ma scegliete comunque di pesare tutto al grammo allora va bene nessuno applicherà il giudizio ma se non lo accettate proprio se non lo contemplate allora probabilmente questo servizio dovrebbe farvi riflettere più di quanto voi pensiate e non andate subito sulla difensiva perché è stato un servizio fatto di merda perché di merda in studio non è stato fatto un dialogo un botta risposta un confronto vero ma è stata fatta semplicemente un'aggressione alla Ghirotti non c'è stata capacità di rispondere o di porre determinati punti però è un servizio che dovrebbe far riflettere molti questo è tutto ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e niente io vi rimando al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti